Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video. A questo punto che cosa succede? Quali sono le ipotesi che rimangono in campo? Beh, abbiamo l'ipotesi del governo Conte, Conte III. Sono tutti favorevoli, tranne Matteo Renzi. Matteo Renzi non dice no, ma non risponde. Chi tace ha consente? Ecco, chi non risponde vuol dire che non è interessato, però non lo dice apertamente. Dice prima il programma, poi i nomi, prima il programma, poi i nomi, oggi non faremo nomi, oggi non facciamo, non diciamo nulla. Insiste che i nomi verranno alla fine. Perché? Perché evidentemente, dopo che vedranno il programma, l'idea è dire non ci piace. Per questo, 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 questo. Molto facile criticare un governo che spazia su tutto. Tra i pini da rimettere in piazza nel paesino fino al vaccino per i quindicenni. Ecco, insomma, è facile criticare un programma. Facilissimo, lo si può fare in dieci minuti. Prendi tutti i punti e dice questo non va bene, questo non è nello specifico, questo non si capisce. È facile. Potrebbe Renzi criticare il programma e dire, signori, il programma non so chi l'ha fatto, ma presumo il Presidente del Consiglio. Questo programma non va bene, io mi sento di dire che Conte non è adeguato per fare questo lavoro. Trovate un altro Premier o si va al governo istituzionale. Io credo che possa succedere questo. Quindi il Conte terzo non è adesso il più quotato. Il più quotato è adesso la stessa maggioranza con un altro Premier. Infatti Conte, in disparte, non dice niente, sta aspettando il verdetto. Il verdetto di chi? Di Renzi. Renzi ha capovolto la situazione da che doveva vincere Conte, con i suoi mercenari, 15, 20, 30, chissà quanti dovevano essere, tutti pronti, allineati, inquadrati. È stato un totale, totalissimo fallimento. È arrivato qualche mercenario. Qualcuno è arrivato, ma qualcuno che serve a molto poco. E così, l'ipotesi del Conte terzo sta piano piano, col passare delle ore, tramontando. E Conte potrebbe diventare Ministro degli Esteri. Non sarebbe a casa, sarebbe ancora nel governo. E quindi l'esploratore Roberto Fico, la giovane marmotta, quella dei Boy Scout, ha portato la maggioranza a confrontarsi oggi su un programma per la legislatura. Oggi, per poi a sera andare magari da Mattarella e dire c'è l'accordo, oppure mi dispiace, non c'è l'accordo, oppure c'è l'accordo con un altro premier, un premier politico, come dice Renzi. A Renzi va bene qualunque premier, l'importante è cacciar via Conte. Gli metterebbe anche l'izio Paperino, piuttosto che Conte. A lui va bene. Anzi, più debole è, più casino lui può fare dopo. Perché lui continuerà a far casino, ovviamente, per mettersi in mostra. Dopo il Conte Terzo, o la stessa maggioranza con un altro premier, ci può essere il governo istituzionale. Ad esempio, i Cinque Stelle dicono Ah sì, Renzi non vuole Conte, allora noi non vogliamo lui, per esempio. E allora Renzi dice Ok, Mattarella, che faccia un governo istituzionale dove entrano tante persone con un altro premier. E così comunque l'obiettivo di far fuori Conte sarebbe raggiunto. L'ipotesi di un governo istituzionale con una larga maggioranza resta in piedi. Ma al momento arranca, attende l'esito del tentativo di formare un governo politico. Sarebbe l'ancora di salvezza in caso di fallimento e trova Silvio Berlusconi come sponsor massimo. Ma è anche l'arma, non si sa ancora se davvero carica, che serve a rassicurare i parlamentari spaventati dal rischio di elezioni anticipate. Nel caso non si riuscisse a raggiungere un accordo. Perché un governo istituzionale potrebbe andare tranquillamente a fine 2023, quando termina il mandato. Lì per forza devono andare a casa, lì non ci sono altre storie, lì bisogna votare per forza. Lì faranno votare gli italiani per forza. Oppure, le elezioni anticipate continuano ad essere l'esito più improbabile di questa crisi di governo. Nessuno nella maggioranza e in parte dell'opposizione, come in Forza Italia, vogliono le elezioni perché, a parte i partiti che crescono, come Fratelli d'Italia e anche la Lega, sia Fratelli d'Italia che la Lega hanno più votanti del 2018. Quindi, nonostante ci sia il taglio dei parlamentari, loro rientrerebbero tutti in Parlamento e anzi sarebbero dei posti da dare anche ad altre persone. Quindi, gli unici che vogliono realmente il voto anticipato perché non subirebbero perdite, non lascerebbero a casa, non licenzierebbero nessuno, sono proprio Lega e Fratelli d'Italia. Tutti gli altri hanno da perdere il posto di lavoro, in gran parte di loro. E quindi, tutti vogliono evitare le elezioni anticipate. Per questo che le elezioni anticipate sono possibili, ma nessuno li vuole. Neanche Mattarella, neanche Mattarella. Beh, insomma, voi immaginate il perché. Ebbene, però, questa possibilità, che per adesso è l'ultima, non desiderata, potrebbe comunque diventare l'unica via d'uscita dalla crisi. Elezioni anticipate con un governo di scopo. Che cosa vuol dire? Mettere un presidente del Consiglio tecnico, che magari va avanti con questi ministri o con ministri realmente competenti, presi dei professionisti, che vada fino alle elezioni a giugno, si ipotizza il 13 di giugno. Ultimissima finestra per votare, perché a luglio comincia il semestre bianco, cioè i sei mesi prima della scadenza del mandato di Mattarella, e non si può andare a votare per legge. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram, nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.